La Biennale di Poesia di Alessandria si evolve e aderisce al nuovo progetto di respiro molto ampio e coraggioso che al momento come fondatori coinvolge il Piccolo Museo della Poesia di Piacenza e la Casa della Poesia di Como con la collaborazione di partner tecnici come punto a capo editrice e i quaderni del Barco Edizioni. La nuova Biennale erediterà buona parte degli appuntamenti ormai consolidati della vecchia e gloriosa Biennale di Poesia di Alessandria a cui si aggiungeranno altri eventi in varie località per creare un calendario che abbraccerà tutto il 2022 e questo sarà ovviamente una sorta di anno di prova per dare meccanismi in vista di ulteriori ampliamenti e arricchimenti dell'offerta.